Nella circoscrizione di Brindisi, Bozzetti Gianluca. Nella circoscrizione di Foggia, Barone Rosa. Nella circoscrizione di Legge, Cassini o Cassini Cristiane. Nella circoscrizione di Taranto, Galante e Masco. Per il gruppo di liste collegato al candidato presidente, Polibottone Adriana, avendo conto il segno, Forza Italia sono proclamati nella circoscrizione di Bari da Marcelli Domenico.